Più di 300 imbarcazioni, servizi, un sistema di videosorveglianza all'avanguardia. Questa è la Biceglia Pro di Abiceglia, che in collaborazione con il Circolo della Vera ha un nuovo modo di intendere il mare. Ha avviato la stagione da pochissimo tempo, diciamo dallo scorso weekend. Come vedete il livello di saturazione dei posti barca è abbastanza elevato. Quest'anno abbiamo recuperato un'utenza importante, anche per la sfortuna di qualche porto vicino. Però, come potete vedere, abbiamo attivato tutta una serie di manutenzioni, un miglioramento dell'accoglienza dei nostri clienti, che effettivamente quest'anno darà veramente lustro alla Biceglia Prodi. Anche perché tutto il lato del waterfront che l'amministrazione comunale Francesco Spina in testa ha voluto regalare a questa città costituirà un punto di riferimento della attività turistica bicegliese estiva. Servizi e non solo, la Biceglia Prodi diventa anche un luogo di aggregazione sociale, un modo diverso di vivere l'estate. Sì, certamente sì, perché come potete vedere anche dalle tipologie di imbarcazione, ci sono le imbarcazioni grandi che ovviamente hanno delle esigenze diverse, ma tante piccole imbarcazioni che ovviamente riguardano degli utenti che hanno necessità di questa socializzazione e di vivere insieme la struttura bicegliese. Quest'anno abbiamo riattivato in modo serio il bar e piccolo ristoro e proprio sulla parte frontale vengono svolte una serie di manifestazioni. Purtroppo non lo so se si riuscirà a collegare la darsena di nord-ovest, perché noi qua ne abbiamo due darsene, è un progetto che si sta valutando insieme con l'amministrazione comunale alla luce anche della ristrutturazione dell'altro lato del waterfront. Presidente, un modo anche per portare economia, per portare lavoro, per portare indotto? Indubbiamente sì, perché al di là degli aspetti proprio prettamente turistici estivi, gestire un porto turistico con tutti i servizi connessi ebbè certamente crea opportunità di lavoro per un numero limitato, perché chiaramente non è che si sta parlando di grandissimi porti, però certamente tra gli occupati diretti che attualmente sono in sette, ma con lo sviluppo che ci potrebbe essere, miglioramenti occupazionali ce ne potrebbero certamente esistere. Da Viceglie per Viva Sveva24, Antonella Lopini.